Anche quest'anno la commemorazione del 114esimo anniversario della morte del poliziotto italo-americano Joe Petrosino a Palermo ha visto la partecipazione del pronipote Nino Melito e dell'Associazione Internazionale di Padula intitolata Petrosino. Hanno presenziato alla cerimonia tenutasi in Piazza Marina, luogo dell'agguato mafioso che pose fine alla vita del poliziotto eroe il 12 marzo 1909 accanto all'assessore alla cultura del comune di Palermo Giampiero Cannella, all'AMS di Palermo e alla presidente dell'Istituto Superiore per la Difesa delle Tradizioni Roberto Trapani Vanda Fabri. Il nostro compito ha detto quest'ultima è trasmettere ai giovani questi valori e un modello come Joe Petrosino. Grazie all'azione di Melito e dell'Associazione il nome e il significato di questo poliziotto pioniere nella lotta contro il crimine organizzato e precursore di alcune tecniche investigative moderne hanno acquisito sempre più risonanza anche nel Salernitano. Mio nonno Michele non se ne poteva fare una ragione ha raccontato Melito, mio fratello diceva era andato in un campo con colture rigogliose per estirpare le erbacce e ci ha lasciato la vita. Il suo esempio però è rimasto nei secoli.